Nono capitolo. Diana. Ma che cazzo! Crash! Mi sveglio di soprassalto. Che diavolo è stato? Mi porto una mano alla testa. La luce del mattino, probabilmente inoltrato, entra dalla finestra colpendomi in faccia. Ho ancora un po' di nausea. Perché la gente beve se dopo sta così di merda? Allora, penso, cercando di alzarmi. Il giacchetto di jeans poggiato sulla scrivania. È di Luca. Che ci fa qui il... Oh, no. D'un tratto, il mio cervello vomita in maniera molto confusa tutte le immagini della sera precedente. Perché sai di casa? Ma da quale cazzo di telenovela di quarta categoria ho tirato fuori sta frase? L'alcol mi fa decisamente male. Allarmata, mi volto verso il letto di Arianna, ma è vuoto. Prima che possa chiedermi dove sia finita, mi torna in mente il rumore che mi ha svegliato poco fa. Veniva dalla cucina. Con le poche forze che ho recuperato stanotte, mi alzo dal letto e vado in cucina. Arianna è lì, che con una scopa tenta di raccogliere i cocci di quella che doveva essere la mia meravigliosa tazza verde acqua. Luca è seduto al tavolo, sorseggia il suo latte in silenzio, distratto dal cellulare. Non si accorgono del mio ingresso e io sono troppo concentrata sul cadavere della tazza per annunciarmi. Arianna finalmente alza la testa. La sua espressione è mortificata. So che non è colpa sua. Diana, scusa, volevo preparare la colazione. Deglutisco, prima di rispondere. Tranquilla, non preoccuparti, le dico, accennando un sorriso. Mi dispiace per la tazza, ma non voglio che si senta in colpa. Sento che tira su con il naso. Oh, no, mi avvicino e l'abbraccio, come quando eravamo piccole. Quando dopo un litigio, non si sa come, una delle due riusciva a mettere da parte il suo stupido orgoglio da prima donna e ad abbracciare l'altra in lacrime. Ehi, davvero, non fa niente, me ne regalerai un'altra. Tento di scherzare. Quante storie. Borbotta Luca per poi alzarsi e uscire dalla cucina, lasciando i resti della colazione sul tavolo. D'improvviso incontro gli occhi di Arianna. Il suo volto è a due centimetri dal mio. Porca miseria. Mi allontano di scatto, come se il suo corpo scottasse. Per un attimo mi ha ricordato ieri sera. Lei tossisce e ricomincia a pulire, senza più degnarmi di uno sguardo. Io prendo una tassa dalla collezione di Luca e inizio a preparare il caffè. Cosa abbiamo combinato? La domenica pomeriggio dovrebbe essere abolita. Insomma, a cosa serve se non a buttarsi impigriti sul divano, dormitiare dopo un pranzo piuttosto sostanzioso e sentirsi totalmente inutili nei confronti dell'intera umanità. Ogni domenica pomeriggio penso. Ora sfrutterò sapientemente il mio tempo libero, impiegandolo in qualcosa di utile e produttivo. Sì, come no. Sono le tre del pomeriggio e io sono sdraiata sul letto, mentre scorro pigriamente la home di Instagram. Saranno almeno venti minuti che faccio su e giù tra le foto. Ho addirittura finito tutte le stories. Continuo a riaggiornare la pagina sperando in qualcosa di nuovo, ma il potere della domenica pomeriggio ha colpito anche Instagram, a quanto pare. Con disinteresse apro la sezione notifiche. Tanto per vedere se c'è qualche nuovo follower interessante. Un nome mi sorprende. Chiocciola Selene Drawings. La ragazza che ho riempito di like qualche giorno fa ha iniziato a seguirmi. Resto stranita per un attimo, cercando di mettere a fuoco la cosa nel mio cervello. È ovvio che non ci sia niente di strano nel seguire le persone su Instagram, ma perché avrebbe dovuto seguire me? Non metto foto interessanti sul mio profilo. Non c'è nemmeno la mia faccia. Solo stupide foto finto artistiche di paesaggi, natura, palazzi. Niente a che vedere con i suoi disegni. Agrotto la fronte e apro di nuovo il suo profilo. Sì, decisamente esagerato per me. Allora perché seguirmi? La cosa mi incuriosisce troppo per non indagare. Saranno gli effetti della stupida, noiosa, sonnolenta domenica pomeriggio, ma una forza a me sconosciuta mi spinge a premere il tasto Invia un messaggio. Per poi abbandonarmi e lasciarmi imbambolata a fissare la chat ancora vuota. E che diavolo le dico? Ciao, perché mi hai seguito? No, no, che domanda idiota. Resto ancora dieci minuti buoni a contemplare la tastiera, finché il mio cervello non riesce a partorire il pensiero più arguto e interessante che mi sarei mai aspettata da lui. Ciao. Ottimo lavoro, cervello. Ti do un bel dieci. Aspetto una risposta. Passano due, tre, quattro, cinque, dieci, venti minuti. Io intanto cerco di distrarmi, navigando tra i vari nickname che ho salvato nella lista sospetti. Sono ancora alla ricerca di qualcuno che possa fornirmi indizi sul cognome misterioso. Ma cosa spero di trovare? Non lo so nemmeno io. Magari è davvero l'ex cognome di mio padre. Ma allora perché l'ha cambiato? Ha dovuto modificarlo tutta la famiglia. Non ha senso. Perché non avrebbero dovuto dirmelo? Mentre un'infinita serie di domande mi affolla la testa, il rumore di una notifica mi distrae, riportandomi alla realtà. Oddio, è lei. Mi ha risposto. Ehi. Cavolo, ragazza. Capisco che non sono stata particolarmente fantasiosa, ma almeno tu, che mi sembri più intelligente, potevi esordire in un modo migliore. Ora come diavolo porto avanti la conversazione. Mi piacciono i tuoi disegni. Seriamente, Diana. Questa è la cosa migliore che ti è venuta in mente. È ovvio che ti piacciono i suoi disegni, idiota. L'hai riempita di like. Non mi sorprenderei se non mi rispondesse. Grazie. E anche a me piacciono le tue foto. Hai un buon occhio. Oh. Questo non me l'aspettavo. Cazzeggio con il cellulare. Niente di professionale. Tu hai studiato per essere così brava? No. Studio psicologia, in realtà. Talento naturale, se così si può chiamare. Oh. Psicologia. Ora mi sento sotto esame. Non devi. Tu cosa fai? Studio cinema. Uh, fico. Un film che dovrei assolutamente vedere? Domanda difficile per una studentessa di cinema. Conosci Love di Gaspar Noé? No. Dovrò recuperarlo. Sono piuttosto ignorante in fatto di cinema. Facciamo così. Se tu mi insegni a disegnare, io ti do lezioni private. Mi pento del messaggio nel momento stesso in cui lo invio. Vorrei cancellarlo, ma lei l'ha già visualizzato. Ma che mi è preso? Sembra l'invito di un manioco sessuale. Poi mi chiedo perché non riesco a fare amicizia. Accetterei, ma non sono sicura di potermi fidare di una ragazza conosciuta su Instagram. Potresti essere una stalker pericolosa? Ecco, appunto. Sto per cominciare a dare testate al mio comodino, stile Dobby di Harry Potter. Ma lo smile che mi invia subito dopo mi fa desistere. La presa sul simpatico. Oddio. Per qualche like di troppo che ti ho lasciato su Insta. Mi piacevano i tuoi disegni. La mia risata sembra sincera. Ma se fosse qui vedrebbe la mia espressione spaventata che rasenta lo psicopatico. Sia lodata la magia dei messaggi. A proposito di like, come hai trovato il mio profilo? Domanda difficile. Come glielo spiego che sto cercando di capire da dove cavolo arriva il cognome che ho trovato su quello stupido certificato di nascita? Crederà che sono più fuori di testa di quanto già non sembri. Cercavo altro e sono capitata qui, rispondo vaga. Quindi la mia teoria sulla stalker si concretizza, eh? La sua risposta mi piglia bene. Sembra una ragazza simpatica. Non l'avrei mai detto. Tra le centinaia di disegni che ci sono sul suo profilo non credo di aver visto nemmeno mezzo sorriso. Ora sono curiosa di sapere quale parte della sua personalità esprimono. Dopotutto, l'arte non è che la proiezione di noi stessi. E tu? Quali delle tante te stai proiettando, Selene? Diciamo che non ci sei andata lontana. Effettivamente, cercavo qualcuna in particolare. Rispondo di getto, senza pensarci. La verità è che voglio conoscere meglio questa ragazza. E qualcosa mi dice che, se non sono io la prima a fare un passo avanti, non riuscirò mai a scoprire le centinaia di proiezioni di lei che tanto mi stanno affascinando. Anche tu? Lo sapevo. A volte il modo in cui capisco le persone quasi mi spaventa. A volte vorrei riuscire a capire così bene anche me stessa. A volte vorrei soltanto smetterla di raccontarmi cazzate. Sì, ma con scarsi risultati. Tu invece? Anch'io me la passo male. Non servono a un cazzo sti maledetti social, ma è tutto ciò che abbiamo. Chi cerchi? Non credo che mi risponderà. O almeno non del tutto. Non lo so di preciso. Disegno sempre un volto. Non so chi sia. Vorrei solo dargli un nome. Difficile cercare un volto su un social fatto di maschere. E questa da dove l'ho tirata fuori? Ci metterà un po' a rispondere. Ho steso anche lei. E tu cosa cerchi? Ho trovato un cognome che non conosco in un documento importante di mia mamma. Sono solo curiosa. Diciamo che non è una bugia. Ho solo omesso un paio di informazioni superflue. Non mi va di parlare per messaggio. Non so nemmeno se mi va di parlarne. Capito. Ora devo scappare al lavoro. Buona fortuna per le tue indagini. Fammi sapere se scopri qualcosa. Anche tu, allora, buon lavoro. Visualizza e non risponde. Beh, è andata. E poi cosa dovrebbe rispondermi? Ormai è quasi ora di cena. Devo dire che, in fin dei conti, questa domenica pomeriggio è andata molto meglio di quanto sperassi. E mentre mi alzo per andare a preparare la cena, il pensiero che forse mi sono fatta una nuova amica rimane lì, sul letto, ad aspettare qualcosa che forse sto aspettando anch'io da una vita intera. Ironica. È così che definirei la nostra generazione. Ironica. E non tanto per il modo di affrontare la vita. Nemmeno per il fatto che i ragazzi della mia età, nel tempo libero, si divertono a mascherare gli insulti e i commenti pesanti con la definizione di ironia. No, niente di tutto questo. La verità è che noi passiamo il 90% della nostra giornata a fissare il cellulare. Di solito, senza neanche un motivo preciso. Solo non vogliamo che il nostro cervello vaghi libero, arrivando in luoghi inesplorati o troppo dolorosi da riscoprire. È il nostro modo per nasconderci, per non pensare. Scorrere una serie di meme divertenti, ma vuoti. Privi di qualsiasi cosa che sia anche solo lontanamente accostabile a un sentimento reale. Insomma, non stacchiamo quasi mai gli occhi dallo schermo. Eppure, quando ce n'è davvero bisogno, quando dobbiamo davvero contattare qualcuno con urgenza, nessuno risponde mai a questo maledetto cellulare. E voi questa come la chiamate, se non ironia della sorte? Sono gli unici pensieri che riesco a formulare mentre fisso il letto vuoto di Arianna, mangiandomi le unghie. Sono le 3 e 05 del mattino. E lei è uscita con le sue amiche. Aveva detto, anzi, aveva promesso, che sarebbe tornata per mezzanotte e mezzo. Quasi tre ore dopo, non solo non c'è anima vive qui in casa, ma nemmeno si degna di rispondere alle mie numerose chiamate. Controllo il cellulare ogni 30 secondi, sperando in una risposta che ovviamente non arriva. È tardi. Vorrei dormire, ma il cuore mi sta per esplodere nel petto. Sento lo stomaco contratto, neanche Luca risponde. Sono sola e i miei amici sono spariti. La mia mente corre veloce a pensieri che non dovrebbero mai sfiorare nemmeno l'anticamera del nostro cervello. Sono stati rapiti, investiti, picchiati, violentati. Probabilmente sono solo in una stupida discoteca con la musica troppo alta per sentire il cellulare. Ma questo la mia testa non vuole concepirlo. Preferisce pensare al peggio, costringendomi a controllare ogni cinque minuti la porta d'ingresso. Sto per digitare l'ennesima volta il numero di Arianna, quando il rumore che ho sperato di sentire più di ogni altra cosa nelle ultime tre ore mi distrae. Qualcuno è appena entrato in casa. Il mio muscolo cardiaco fa un triplo salto mortale, arrivando direttamente alla gola e bloccandosi lì. Le opzioni sono due. O sono dei ladri, venuti qui per rubare i pochi spicci che conservo nel mio salvadanaio. Oppure sono degli assassini, psicopatici, pronti a farmi a pezzi e a nascondermi nel bagagliaio della loro auto. Forse sono gli stessi che hanno preso Arianna e Luca. Sono spacciata. Guardo verso l'alto, pregando il mio angelo custode di aiutarmi a uscire viva da tutto questo. Per tutta risposta, la finestra si chiude per una follata di vento, negandomi l'accesso all'unica possibile via di fuga. Grazie mille, angelo. Molto gentile. La porta della mia stanza si apre e io balzo in piedi, preparandomi a combattere contro gli aggressori. Ma, prima che possa saltare al collo della figura sospetta, mi rendo conto che si tratta solo di un'Arianna un po' sbronza che barcolla. Quel maledetto, stupido cuore che mi era salito in gola ricade con pesantezza verso il basso, piazzandosi nello stomaco. Non vuole stare al suo posto oggi. Ari, sussurro, avvicinandomi per aiutarla. Ciao, urla lei, alzando le braccia e agitandole come se fossi a un chilometro di distanza. «Shh, non gritare! Non voglio litigare di nuovo con i vicini!» «Fue gli stronzi!» dice cercando di togliere le scarpe con tacchi vertiginosi che indossa. Per poi iniziare a singhiozzare. Mi inginocchio, cercando di aiutarla a sfilarle. Involontariamente il mio sguardo percorre tutta la lunghezza delle sue gambe, arrivando al bordo del vestitino tanto troppo corto. Cavolo, però, se le sta bene. «Grazie», borbotta sedendosi mentre metto via le scarpe. «Ti ho chiamata», le dico con le mani sui fianchi. In questo momento mi sento mia madre. «Credo di aver perso il cellulare», risponde. «Probabilmente più a se stessa che a me». Scuoto la testa. È inutile cercare di capire perché ha fatto così tardi. «La sgriderò domani. Ora ha bisogno di dormire». Questo pensiero mi porta a una conclusione a cui non ero ancora arrivata. Se deve dormire ed è troppo ubriaca per spogliarsi, vuol dire che dovrò farlo io. Sgrano gli occhi, fissando il suo vestito nero così scollato. È chiaro che non porta il reggiseno sotto. «Oh no!» «Andiamo a letto», dice lamentosa, fissando il soffitto e facendo ciondolare la testa. Deglutisco, avvicinandomi. «Ok, Diana, calma. Devi solo svestire la tua migliore amica. Non è niente di che. Succede tra amiche. Lo fai solo per aiutarla». «Ti… ti do una mano a metterti il pigiama?» chiedo. «Non so se spero in una risposta positiva o negativa, anzi, lo so benissimo. Ed è questo che mi spaventa». Come temevo, Ariana annuisce. Deglutisco ancora, cercando di tenere a bada i battiti. Mi metto dietro di lei e le sposto i capelli di lato. Sono così morbidi. Hanno il suo odore. Trovo la cerniera del vestito e comincio ad abbassarla. «Dormiamo insieme stanotte?» Eccolo. Quello stronzo del mio cuoricino ha appena dato un calcio allo stomaco. «Come?» domando, bloccandomi per un istante. «Anche tu sei di casa?» risponde ridacchiando e piegando la testa di lato. Il suo collo è ancora più scoperto ora. Sto per sentirmi male. «Perché me lo dici?» È una domanda stupida, lo so. «Mi piace un sacco», ribatte lei, passandosi una mano sulla parte scoperta del collo. «Ed è qui, credo, che i miei organi hanno organizzato una riunione straordinaria. Non so bene cosa si siano detti. L'unica cosa che so è che il mio corpo è iniziato a muoversi da solo, senza darmi possibilità di ribellarmi. Mi avvicino lentamente ad Arianna. Continuo ad abbassare la cerniera del suo vestito per poi foggiare le mie labbra sul suo collo. Dolcemente, la sento ispirare forte. «Cosa cazzo sto facendo?» Inizio a deporre dei baci leggeri lungo tutta la parte di pelle scoperta. Lei mi mette una mano tra i capelli, tirandomi più vicina. «Mi sto approfittando di una ragazza ubriaca. Cosa cazzo sto facendo?» D'un tratto, Arianna si volta. I nostri sguardi si incontrano. Siamo troppo vicine. I suoi occhi. Alle pupille dilatate. Mi rendo conto che, in verità, mi vuole anche lei. Mi rendo conto che non mi interessa più di quello che potrebbe succedere dopo. Mi rendo conto che sono stanca di dovermi reprimere, di dover mentire a me stessa. Non serve più. Non ora. Quasi all'unisono, ci muoviamo l'una verso l'altra e le nostre labbra si uniscono per la prima volta. Ed è tutto così. Giusto. Prendo il suo volto tra le mani. La bacio davvero. Lei risponde con trasporto, tirandomi con delicatezza verso di sé. Non so cosa stia succedendo, ma ho capito solo adesso di averlo sempre desiderato. In un istante sono sopra di lei. I nostri corpi stretti, le nostre labbra incollate. Vorrei che il tempo si fermasse in questo istante. Per sempre. Sento le sue mani che corrono lungo la mia schiena, sopra la maglietta. Brividi incontrollabili scuotono il mio corpo. Il bacio acquista sempre più foga. Lei sa di buono. Di buono e di alcol. Di buono, di alcol e di menta. D'improvviso, Arianna si stacca. È come una doccia fredda. Sbatto gli occhi e cerco di riprendere fiato. È ancora sotto di me, le labbra leggermente schiuse, il respiro pesante. Cosa stiamo facendo? Mi chiede, tra l'incuriosito e il terrorizzato. Non lo so, rispondo, e sono sincera. Non ne ho davvero idea. Però mi va. Arianna deglutisce. È indecifrabile. Sono sicura che stia per dirmi di lasciar perdere quando un sorriso spunta sul suo viso. Anche a me va. E le mie labbra sono di nuovo sulle sue.